Abbiamo già parlato di garanzia post vendita. Oggi vediamo cosa accade se acquistiamo un prodotto usato. Molti consumatori infatti credono che quando si acquista un bene usato non si abbia alcun diritto nei confronti del venditore. Per fortuna non è così. Infatti all'interno del codice del consumo è prevista una tutela specifica per chi compra un prodotto usato. È importante però osservare che il venditore deve essere un venditore professionale. Quindi se compro ad esempio una macchina fotografica usata su ebay da un altro privato in questo caso non avrò diritto alle garanzie del codice del consumo. Ma se compro da un venditore professionale di articoli fotografici senz'altro sì. La garanzia sui prodotti usati si estende ad un anno. Non due come per i prodotti nuovi ma attenzione il venditore deve aver precisato che la garanzia è soltanto di un anno altrimenti anche sull'usato vale la garanzia biennale.